Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto super, super, super bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Oggi un ospite speciale dietro la fotocamera Non c'è il cavalletto, ma c'è Ivan Quindi oggi faremo un video un po' particolare Perché vi mostrerò gli studi di Golook Ormai sappiamo tutti chi è Golook L'azienda che realizza pc di altissima qualità Tra cui anche il Mii Ovviamente vi lascio tutto in descrizione Siamo qui nella loro sede di Napoli E ho scelto di farvela vedere Di mostrarvela facendo i suoni Di qualsiasi oggetto qui presente Quindi iniziamo e buona visione Oh, fermo cameraman Come sempre vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale Se non l'aveste ancora fatto Mi raccomando, è super importante Ed in più vi ricordo di iscrivervi su Instagram Per non perdervi nessun aggiornamento Link in descrizione Ora possiamo cominciare Facciamo vedere quello che c'è dietro Il video, le luci Ci avviciniamo al divano Che è stato protagonista di numerosi video Qui da Golook Il video, il video, il video, il video Qui ho realizzato anche il video In cui ho assaggiato il panino di Donato Come un ligo senza Qui, qui, qui Abbiamo una lampada colorata Ok, ci spostiamo dalla lampada E il cameraman se si alza Alzati, 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 alzati Guardiamo il muro Ci avviciniamo ora alla televisione Che sta trasmettendo un bel camino Si sente anche il suono Ok Ora andiamo nella stanza principale Degli studi di Golook E andremo ad ascoltare Dei suoni ancora meglio Eccoci, stiamo per entrare Guardate Che meraviglia Ed ora ci giriamo Da questo lato qua Dove ci sono tutti gli oggetti Che Golook utilizza Per realizzare i suoi pc E andremo a farci qualche suono Fatevi gli occhi Fatevi gli occhi Guardate qua 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora andiamo a vedere tutta la scritta di Coluc, guardatela nella sua interezza già vista in alcuni video e andiamo a farci del tapping. Guardate che bella azienda che è. Guardiamo il soffitto, andiamo a guardare il soffitto, alziamoci, guardate, 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 gira, 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 gira. Questo cavalletto mobile automatico è fantastico, eccola tutta l'azienda, questo è l'ingresso. Da questa parte abbiamo altri computer, un'altra sedia, qui c'è una sedia. Guardate, 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 guardate. Guardate. Ora ci giriamo da questa parte Vediamo cosa c'è dietro questo bancone E' pieno di oggetti Tra cui ovviamente computer Guardate, guardate, guardate Guardate qua la gomma piuma Questa qui fa un assorbente questo materiale Qui abbiamo altre sedie da gaming Ben tre sedie Una Playstation 5 Guardate là Joystick Avviciniamo qui un'altra tastiera Adesso mi sposto dall'altra parte Qui abbiamo un fantastico PC Guardate che meraviglia Sono il simbolo Di Coluc Guardiamolo da dentro Bene Ora guardate la G E usciamo da questo fantastico PC Abbiamo ascoltato il suo suono delle ventole Una fantastica Alexa con lo schermo Da cui si controllano tutte le luci dello studio Un bel Macbook Continuiamo da quest'altra parte Oltre ad un'altra serie ancora Abbiamo qui un fantastico schermo curvo Guardate Guardate, sono le 22 e 32 di venerdì 7 aprile Altra Playstation 5 In questo caso la versione senza disco Da questa parte un altro fantastico PC Ovviamente da Coluc Solo e soltanto PC Fantastici Anche questo Possiamo aprirlo Guardate quanto è bello Poi super silenziosi Un paio di cuffie Ed ora direi di Anzitutto Osservare Questa parete fantastica Guardate C'è un dipinto Fenomenale Accanto a questa scritta Eccolo Questo Questo Che abbiamo regalato Ai fantastici amici di Coluc Adesso lo prendiamo Aspetta camera Mentre lo prendiamo Ok Guardatelo Con la C di Coluc Dietro la fontana di Perugia È davvero un fantastico dipinto E dall'altra parte E dall'altra parte invece Abbiamo tantissime altre cose Come Fungo Pop E Fungo Pop E tanto tanto altro Su queste fantastiche mensole Bene Quindi adesso ci spostiamo Nella zona ludica Di nostri cari amici di Coluc Da questa parte Da questa parte Intanto osserviamo Questa zona Con le stampanti Guardate Guardate Qui abbiamo tanti alimentatori Ed ora ecco qui La zona ludica Abbiamo Dei PC No Non ci sono dei PC Ma Abbiamo Un fantastico tavolo Da ping pong Pensate che questo tavolo Da ping pong Può essere Un tavolo normale Oppure anche Un tavolo Da Biliardo Ecco Com'è Da biliardo Questo tavolo È fenomenale Ci sono anche Le palle Da biliardo Ovviamente Un tavolo E Grazie a tutti. E poi può essere anche un normalissimo tavolo. Bene, quindi diciamo che questo è un tavolo magico che consiglio di comprare perché è molto molto comodo. Ma non ha pubblicità purtroppo. Ora torniamo nell'altra stanza per i saluti. Andiamo, intanto tocchiamo anche. Il cartongesso, facciamo vedere il cameraman. Ed ora ci spostiamo per i saluti. Prego, 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 prego. facciamo vedere la scritta e con lei io vi ringrazio per aver visto questo video ringrazio il cameraman e ringrazio i fantastici amici di Coluc e non posso far altro che augurarvi una tranquilla gioiosa e serena notte notte notte